Tutti per uno, uno per tutti, Raimau! Ci alleneremo... Buonasera a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su Inazumi Leven 2 Bufera di Neve Ragazzi, nella scorsa puntata è iniziato, è iniziato già questo viaggio, anche se ancora dobbiamo fare il primo passo Ma è già iniziato, nuovo allenatore, nuovi obiettivi, nuovi giocatori, abbiamo tantissimo da fare Quindi mi raccomando, se vi siete persi lo scorso episodio, andatelo a vedere E se ancora non avete lasciato un bel pollicionazzo all'insù, fatelo adesso per supporto alla serie Perché adesso si parte... tu chi sei? Ma... è un tizio... ma... strano... stranissimo! Chi è? Chi è? Chi è? Non lo possiamo sapere... chi era quello? Un suo amico? Sì, mettiamola così La mia vita sociale non ha importanza in questo momento, siete pronti a partire Lina ha qualcosa sotto che ci nasconde Ne sono sicuro, qualcosa ce la sta nascondendo Stiamo solo aspettando Axel Dovrebbe arrivare a momenti No, non farmi spaventare L'avevo completamente dimenticato Cosa? Mark, dove vai? Vada Axel? Ah no, ok Ma che fa? Mmm, è il club di calcio Aha, presa! Che cos'è? Club di calcio La targhetta, ok Ah, la vuole portare forse È la targa del nostro club di calcio Wow, il club è completamente distrutto ma la targa sembra essere intatta E noi ce la vogliamo portare come simbolo Quello che l'Alius Academy ha fatto è imperdonabile È contro lo spirito del calcio Giocare per causare sofferenze e distruzione Gli mostreremo che cos'è davvero il calcio Sono con te Mark Li affronteremo di nuovo e questa volta vinceremo Proprio come faresti tu Mark Non molli neanche di fronte alle sfide impossibili, vero? E anch'io non mollerò Questo è lo spirito giusto Comincia la nuova avventura della Raymond Eleven Facciamolo per tutti quelli che ora sono in ospedale Non ci posso credere Sfideremo gli alieni Io Non dirmi che devi andare in bagno No, sono solo contento Dare il mio contributo come membro della Raymond Eleven Tipo no, un panchino, fuori Siamo pronti Ascolta Mark Stiamo parlando di alieni Non credo che un semplice Siamo pronti possa servire a portare a casa la vittoria Pensa a qualcosa di più efficace Eh 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 Sì, vabbè Non è che li dobbiamo affrontare mo' Oh Axel, ecco di qui Sei riuscito a salutare tua sorella? Che ti è successo? Cosa c'è che non va? Giulia sta bene? Non è niente L'ho salutata e ora possiamo andare Aspetta Mark E se mi... Niente, non farci caso È successo qualcosa, signori, con quegli uomini in nero Sicuro Sicuro Tipi loschissimi Ora siete in undici Lasciamo Tokyo e andiamo a cercare gli altri giocatori Ah, quindi siamo a Tokyo Siete pronti? Sì, siamo la squadra migliore in Giappone Se non battiamo noi l'Alius Academy Chi può farlo? Avete ancora tanto da imparare Ci sono delle squadre eccellenti che snobbano il Football Frontier Cosa? Come è possibile? Alcune appartengono a scuole che non hanno nessun interesse a partecipare E altre sono state considerate da Ray Dark troppo pericolose Ce ne sono in tutto il paese Davvero? Davvero, posso assicurartelo Quindi fossi un vecchio andrei piano a definirvi la migliore squadra del paese Wow Questo lo dico anche io comunque Wow, questa è una bella trovata perché altrimenti saremmo troppo forti E invece Ma è fantastico Ci sono giocatori molto più bravi di quello che pensassimo Andiamo a cercarli Direttore, brutte notizie Il primo ministro Vanguard era in visita ufficiale a Nara Quando l'Alius Academy ha attaccato Che cosa? Il primo ministro? Come sta? Non lo sappiamo Lo hanno rapito Ma perché? Che cosa vogliono dal primo ministro? Dobbiamo muoverci subito Potremmo trovare degli indizi a Nara Ok, qualsiasi cosa l'Alius Academy stia cercando di fare È nostro compito intervenire E state sempre uniti Ho fiducia in voi Potete battere l'Alius Grazie allenatore Ilman Andiamo a Nara Tutti sull'autobus Ok Tutti sull'autobus C'è la questione di Axel Che mi tiene un attimino Un sospeso Che devi fare? Se devi andare in bagno faccio adesso Perché nel Pullman Non ci puoi andare No, solo che gli alieni che ci attaccano Non sono allenatrici Tutto sembra così complicato Che non riesco nemmeno a pensare Andiamo Jack Non ha senso rimorginare su cose che non riesci a capire Devi solo pensare che scoviggeremo l'Alius E salveremo la buona reputazione del calcio Sì, hai ragione Farò del mio meglio allora Ecco, bravo, vai Non distrarti Pensa all'obiettivo Rendici orgogliosi Mark Lo farò signori Lo farò Che cosa? Chi c'è? C'è qualcuno qui? Chi è? È Byron Quindi linea Zoom Eleven è pronta a partire Non possiamo permetterci di stare qui a guardare Ti auguro buona fortuna Mark Evans Ne avrei bisogno per trovare i migliori giocatori del paese E vieni anche tu Vieni con noi Ferma l'autobus e dici Sposta quel bus Cioè non spostare quel bus E salvo anch'io Che succede? Dai andiamo, andiamo Beh dai stiamo iniziando una nuova avventura Non ci sta Dai un po' più di entusiasmo però Ecco Proprio quello che ci mette Axel in questo momento Dai che forse l'allenatrice Che motore ha che quando si accende schiaccia tutte cose Tutto l'autobus si schiaccia Pur di partire Va bene Comunque non è che l'allenatrice forse capisce il problema di Axel E lo aiuta Eh sicuramente è successo qualcosa Ok 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 Beh Non vedo l'ora di scoprire A parte questa storia di Axel ovviamente Prima che vi do completato Siamo la pista dell'Alius Academy fino a Nara Ma come mai ci scambiano per alieni? Lo scoprirai nel prossimo capitolo Il mistero del pallone nero Axel Che ti succede? Ok signori In questo capitolo scopriremo che cosa è successo ad Axel Ok c'è anche l'intermezzo Vuoi salvare i progressi di gioco? Assolutamente Sì Quindi nel prossimo capitolo Quello che stiamo per iniziare Vedremo che cosa è successo ad Axel E quello che stavo dicendo prima Non vedo l'ora di scoprire in realtà Le capacità di questa allenatrice Quindi Qualche ora prima della partenza di Mark e della squadra Questa è Cervo TV In diretta dal Parco dei Cervi Ecco a voi la strada del Cervo Gigante Qui c'è una mania di Cervi Incredibile Vediamo Attenzione È in corso la cerimonia di inaugurazione L'entusiasmo È palpabile Il primo ministro Vanguard Il presidente americano Cooper Stanno per tagliare il nastro Attenzione Proprio loro Si avvicinano al nastro Presidente Cooper La ringraziamo per averci onorato Della sua presenza All'inaugurazione della nostra statua della pace Il piacere è mio Venga a trovarci negli USA Così potrà vedere un po' di calcio americano Come se fosse Chissà che cosa il calcio americano Ah forse il football americano Allora quello si Volentieri Bene Incominciamo Questo lo diceva football però Che cos'è questo rumore? E quello cos'è? In diretta Da Nara Dal giardino dei cervi Dal parco dei cervi Dalla statua dei cervi Dall'ex Stato dei cervi Cosa? Che sta succedendo? No Che diamine Non c'è più Deve sapere Beh Sono arrivate due pallonate incredibili Capitolo 2 Il mistero Del pallone nero Ok siamo già al capitolo 2 Quanto siamo bravi? Quanto siamo veloci? Non abbiamo fatto ancora niente Però va bene Siamo troppo bravi Aggiornamenti da cervo tv Per me Veramente Questa è senza ombra di dubbio Opera dell'Alius Academy Il tv non si parla d'altro Del rapimento Ogni canale Trasmette la stessa cosa E vabbè È ovvio Davvero? Non sarà forse perché Il primo ministro del paese È stato rapito sotto gli occhi di tutti? Bravo Kevin Spiegali le cose Basilari Ma quale interesse avrebbe l'Alius A rapire il primo ministro? Che cosa hanno in mente? Chi può saperlo? Ma sicuramente Li faremo sputare il rospo Quando li avremo sconfitti È facile a dirsi che a farsi Quelli che dobbiamo affrontare Sono alieni Quante possibilità abbiamo Di farcela? La vittoria non è una possibilità Ma una necessità È per questo che stiamo cercando I migliori giocatori del paese Giusto? Hai ragione Speriamo di trovare Dei nuovi compagni di squadra Nara Devi guidare Girati Girati Sì va bene Ma girati Devi guidare Moriremo tutti Ma cioè Veramente Allora Facciamo così Un attimo Vediamo se Devo sistemare un po' Perfetto Non devo Perché è cambiato il capitolo Ottimo Quindi possiamo andare Siamo assolutamente pronti Mettiamoci in marcia Prossima fermata Nara È ora di andare a Nara Andiamo a Nara? Uh C'è tutta la mappa Tokyo Nara Andiamo Tutta la mappa del Giappone Direi di andare in città Perché Sì Vamos Con il pulminos Dai vediamo questa città Vediamo questa nuova città Nara Oh si vede già Nara Ecco quel tempio famoso Quello che Beh l'ho visto sui libri Hai ragione Eccolo è meraviglioso Ehi state calmi Potete abbassare la voce Per favore Cos'è Jack? Non vorrei andare ancora al bagno Sì però glielo chiedete troppo spesso Non è che devo andare al bagno Ogni tre secondi Accidenti Mark Non mi sento bene Forse soffro di male Eh ok Allora Hai ragione Conoscendo di più Probabile che sia un indigestione Di dolci Axel Sempre Un po' Sei diventato pallido Sto bene Axel Jack Ecco quello che dovete fare Non dovete pensare All'altro che al calcio Vi rimetterete in sesto Mi sa che funziona Solo per te Mark Sì infatti Chissà cosa Axel Sembra così triste Da quando siamo partiti Sì è vero Dai Lina Secondo me Tu ci arrivi A capire che cosa è successo Che è questo rumore? Qualcuno sta cercando Di mettersi in contatto Con noi Scopriamo subito Chi è Ah riconosco Questo numero Pronto Vi vedo su di morale Allenatore Che sorpresa Eh quante feste Veniamo al sodo Abbiamo attrezzato L'autobus con un dispositivo Che mi permette Di comunicare con voi Interessante Voleva dirci qualcosa In particolare Vorrei parlarvi Del sistema di ingaggio Ok Sono sicuro Che le informazioni Che ho scopato Vi aiuteranno a trovare I migliori giocatori In circolazione Prendete per esempio I giocatori che hanno subito L'influenza dell'Alius E che vi sfidano In ogni momento Ce ne saranno Almeno un paio Che vi piacerebbe arruolare Giusto Con un vostro via libera E qualche piccola informazione Vi dirò dove andare a ingaggiarli Basta giocare con loro Una volta soltanto Non importa Se vincete o perdete Attenzione però Potrete ingaggiare Solo fino a 100 giocatori Alla volta Per raggiungerne di nuovi Dovete mandarne via degli altri Chiamatemi Se volete fare una prova Ah Un sistema di ingaggio Molto più veloce Sembra che ci sia Parecchio spazio libero Sull'autobus È enorme Potrebbe Ci stanno 100 persone Mi stai dicendo Mi raccomando Mark Fa buon uso Del sistema di ingaggio E completa la squadra Certo Sicuramente Riusciva a ruolare Un sacco di fantastici giocatori Usa il sistema di ingaggio Per cercare Nuove amici Squadra Va bene Se vuoi modificare Se vuoi modificare la composizione La squadra Usa cambia Dal menu Amici Ok Ho visto già qualche nome Nuovo Diverso Nell'immagine di Diciamo Spiegazione Della Dell'ingaggio E ho intravisto Vabbè ormai lo dico Tanto ve lo saprete Ho intravisto Vittoria Che è la ragazzina di prima Che c'era davanti al cervo Quindi mi sa Mi sa Vabbè Non dico più niente Inserirò nell'album I giocatori che salgono Sull'autobus Inazuma E anche quelli che hai incontrato Durante le sfide a calcio Ingaggiali con il nuovo sistema E aggiungerò delle informazioni Più dettagliate su di loro Puoi vedere l'album Ogni volta che lo desideri Selezionando info dal menu Se vuoi ottenere informazioni Su un giocatore La prima cosa da fare È consultare l'album Va bene Tutte cose secondarie Che comunque Sono utili Ma non indispensabili Credo Eccoci ragazzi Benvenuti a Nara Ah il mio sedere Sono stato seduto troppo a lungo Ci abbiamo messo una vita Quelli dell'alus Se ne saranno dati da un pezzo Hai ragione Ma il nostro obiettivo È ingaggiare i migliori giocatori In circolazione Per poi battere l'alus No? Quindi che cosa stiamo a fare qui? Beh magari potremmo ancora Trovare degli indizi sugli alieni Come si dice L'informazione è potere Sì Ok basta chiacchiere Diriggiamoci verso il parco dei cervi Arriviamo Ok Diriggiamoci verso il parco Va La nuova allenatrice È così prepotente Sono già stufo di lei No Kevin Jack Se l'ha problemi sociali In questo momento Se ti ci metti pure tu Sono senza attacco Quindi Zitto Ecco È un bel problema È un bel problema Trova Io direi che potrei già comprare qualcosina Potrei già comprare qualcosina Però non mi dice qual è il L'elemento Allora Questa è qua la tecnica del portiere Vabbè Già Mark ne ha un paio Quindi ci sta La difesa potrebbe essere interessante Prendere magari un tackle fulmineo O una difesa spirale Prendiamo una difesa spirale Va bene E prendiamo anche Un clown equilibrista Uno scatto bruciante Lo scatto bruciante potrebbe essere interessante E direi per adesso basta Perché tanto gli attaccanti hanno entrambi una bella tecnica E non voglio sprecare tutti quanti i punti Perché se poi mi servono Per adesso ne abbiamo pochi insomma Quindi tecniche Vediamo se c'è qualcuno senza niente Lui ad esempio ha scatto repentino Lui ha muro di roccia Quindi ce l'ha Lui potrebbe imparare un qualche cosa Ho preso lo scatto bruciante Todd non ha niente ad esempio Ed è un difensore Quindi a lui ad esempio insegnerei qualcosa Ma forse ancora non lo posso fare Ottimo Aspetta ma gli altri lo posso fare? No Vuol dire che ancora adesso probabilmente non lo posso fare O comunque mi ingegnerò un po' a capire che cosa Cosa si può fare e cosa no Quindi tranquilli Allora benvenuto al moda sport di Nara Come posso aiutarti? Vediamo che cosa c'è Infatti vedete Potevo in teoria risparmiare qualcosina Per poi prendere qualche oggetto di questo tipo Abbiamo degli scarpini Che aumentano la velocità E degli scarpini che aumentano la difesa Ma l'aumentano di uno Quindi No Per adesso no Per adesso andiamo avanti Vediamo se invece troviamo qualcos'altro Ok Magari qua troviamo un po' di scarpini Ho tenuto Ah punti carisma Questo cos'era? Ah per le barrette Eh Ho ragione Mercatone Il minimarket Sì saranno barrette Acqua Perfetto Ok Possiamo andare ancora E possiamo vedere che cosa succede dopo Direi di andare leggermente più veloci Perché altrimenti Mi sa che il parco di Cervi è da quella parte Lui è un poeta Andiamo di qua Vi è dato l'accesso alle persone non autorizzate Aria Abbiamo sentito che il primo ministro è stato rapito Quindi Proprio così Ma non preoccupatevi Secret Service Stanno già indagando sul caso Comunque non sono faccende che vi riguardano Mocciosi Andate via Secret Service? Chi sono? E cosa fanno? Sono degli uomini addestrati a proteggere le persone importanti Servizi segreti insomma Quindi se hanno sbarato l'accesso al parco dei Cervi Deve per forza esserci qualche indizio importante in quell'area Per quanto gentilmente potremmo chiederlo Non ci faranno mai entrare Già a quanto pare gli alieni se ne sono già andati Perché non andiamo a chiedere in giro? Potremmo trovare informazioni utili sugli alieni In metà tempo Che cosa hai detto? Hai detto Alieni? Cosa ne sai? Sputer Rospo Eccola Victoria Signorina Victoria Tu chi sei? Ascolta Devi lasciarci passare Stiamo cercando indizi sull'Alius Intendi dire l'Alius a Cade? Come fate a conoscervi? Possiamo fargliela passare Elicia Fateci passare Non credo che così li convinci Ma come? Ma come? Come ti permetti? Victoria Io riponevo tante speranze su di te Che rabbia Quella ragazza non era... Avete sentito la signorina? Questo non è un posto per ragazzini Andate... Però c'ha la signorina lì Eh, lei non è la ragazzina? Ok, mi lascia a vedere Non possiamo metterci nei guai A quanto pare Passare dall'ingresso principale È più difficile del previsto Allontaniamoci per un attimo Forse potremmo trovare Un altro modo per entrare Nel frattempo Diteglielo lì davanti a lui Perché non cerchiamo di parlare Con qualcun altro nei paraggi? In un modo o nell'altro Entreremo nel parco In barba I Secret Service Cerca di entrare nel parco dei cervi Devo parlare con qualcuno? L'uomo davanti alle scale Non mi lascia entrare Al parco dei cervi Chi si crede di essere? Eh, stessa problematica nostra Tu, poeta? No No Tu? Niente Dove vuoi andare? No, non voglio andare di qua Proviamo ad andare da questa parte E proviamo a chiedere un po' in giro Cosa? Volete sapere se c'è un altro modo? E come va? Sei più inutile Sei più inutile di non so che cosa Vediamo se c'è un altro ingresso Per arrivare al parco dei cervi Basta andare su per questa colinetta E salire le scale Eh sì Ma se è chiuso Non ci si può andare Oh oh Davvero? Che succede? Eh? Che succede? Dico sul serio Non hai visto il cervo che poco fa è uscito dal parco? Quella guardia dallo sguardo truce vicino alle scale era impietrita Avresti dovuto sentirla Era nascosta dietro un albero Diceva di non avere dimestichezza con gli animali Ah ah Se si spaventa così per un piccolo tenero cervo dovrebbe cambiare mestiere Sia via con i mocciosi E poi per un cervo innocuo Dunque dunque così ha paura dei cervi Allora briefing Ho trovato possiamo distrarre la guardia Basta solo trovare un cervo Perfetto ma come pensi di fare? Mmm chissà Jack che cosa stai mangiando? Ti sembra il momento? Eh è sempre l'ora di mangiare I famosi biscotti di Nara Mmm sono fantastici Vuoi uno? Biscotti di Nara? Quando li hai? Accidenti Jack non siamo a un picnic Date un'occhiata alla scritta sulla confezione Attenzione Tenere lontano dalla portata di cervi Verranno da voi a branchi e vi ritroverete in un bel pasticcio Queste sono le classiche avvertenze che trovate nei pacchi di biscotti Quindi state attenti Ma che avvertimento è? Se usiamo questi biscotti possiamo attirare un cervo Vale la pena tentare Jack ti prendi i biscotti No no I miei biscotti di Nara Ecco qui capitano Perché devo fare tutto io? Forse perché sto giocando io? Ha senso Portiamo i miei biscotti a quella gente dei Secret Service Seguitemi Speriamo che funzioni Va bene Intanto ci proviamo Non abbiamo niente da perdere Dai dei biscotti Magari ora lui pensa che sia un modo per corromperlo E invece no È un modo per farlo attaccare dai cervi Toglietevi tutti Devo dare i biscotti alla guardia Eccola Ancora voi Credevo di essere stato chiaro Ah c'è anche l'allenatrice Dopo tanto duro lavoro ci vuole qualcosa che la tiri su Se le dai i biscotti alla guardia Accidenti Oh no santo cielo Ma dai ma sono tenerissimi i cervi aiuto Ha funzionato Con i biscotti di Nara non si scherza Ora possiamo finalmente entrare nel parco dei cervi È qui che il primo ministro è stato rapito Quindi dovremmo riuscire a trovare degli indizi sull'Alius La mia gamba La ferita che mi sono fatto durante l'ultima partita fa ancora male Tutto bene Nathan? Sì sì tutto bene non preoccuparti L'ha visto L'ha visto lei L'ha visto Me l'immagino lì che prende nota Che si piglia gli appunti Perché Deve sapere tutto Deve avere tutto sotto controllo Oh che carini cervi Benvenuto al parco dei cervi Parla Quella renna parla Comunque Divide energetica Ok Sfida Non ok Continuiamo così Raimon Non riesco a sentirlo detto in questo modo Raimon Non so voi Comunque Io come al solito esploro un pochettino Sperando effettivamente di trovare qualcosa Tipo questo Barretta Certo non è che mi interessi tantissimo Ciao cervo In effetti qui non ci dovrebbe essere nessuno Meno di questi tizi Perché c'era la guardia E invece c'è sempre qualcuno pronto a sfidarti Proprio queste cose su Inazumi 11 Non cambiano mai Come l'ho beccato Proprio a occhi chiusi Invece preferisco tantissimo Nella versione Go Che puoi evitarli tranquillamente Quindi se tu hai voglia di fare una sfida La fai Se non ne hai voglia Non la fai A parte qualcuno che magari per darti fastidio ti insegue Ma comunque sono pochi Soprattutto ho notato Più avanti si va E meno sono C'è da dire però che almeno Stiamo facendo un pochettino di esperienza Qui Sto salendo di qualche livellino Quindi ci può anche stare Anche perché magari adesso ci potrebbe essere qualche partita Perché è da un po' che non facciamo una partita Quindi direi che ci potrebbe anche stare Allora ragazzi Io penso che qui davanti Succeda qualcosa Abbiamo esplorato tutto da questa parte Esploriamo tutto anche da qua Ecco Vediamo se qua c'è un qualche bauletto Qualche cosa No Non voglio uscire dal parco Dopo tutto quello che ho fatto per entrare Quindi ragazzi Io direi che ci possiamo salutare Perfetto Non mi fanno nemmeno salutare Perfetto Mi fate salutare Grazie mille Direi di metterci qui In mezzo Quindi ragazzi Io penso che là sopra dove ci sarà il cervo Ci saranno un bel po' di cose da fare Siccome questo episodio sta diventando molto lungo Direi di poterci fermare qua Abbiamo fatto un po' di cose anche quest'oggi Il viaggio ha inizio proprio quest'oggi Quindi mi raccomando Se vi è piaciuto Supportate questo viaggio incredibile Con tantissimi pollicioni all'insù E per non perdere i prossimi appuntamenti Vi invito a iscrivervi al canale Attivare la campanellina E seguirmi anche sui social Che trovate qua sotto in descrizione Direi che noi ci possiamo vedere in un prossimo appuntamento Vi ringrazio ancora una volta per aver visto Questo video fino a qui E alla prossima Io vi aspetto Non mancate Un saluto a tutti Ciao belli Ciao belli Ciao belli